Nell'ambito del cambiamento climatico si verificano delle situazioni che possono far pensare che a breve vengano cambiati gli apporti in termini meteorici alle falde. L'obiettivo del Trust di questa sperimentazione è quello di verificare se con le strutture esistenti possiamo integrare l'acqua che attualmente viene sottratta alle falde o che viene a mancare alle falde. I consorzio di bonifica hanno messo a disposizione del progetto Trust la loro esperienza, la loro conoscenza al territorio per cercare di arrivare a quantificare quali sono gli effetti di queste possibili pratiche di alimentazione della falda. Quindi attraverso delle sperimentazioni fatte su appositi campi prova abbiamo cercato di valutare il beneficio dell'emissione dell'acqua in falda in funzione delle condizioni superficiali del terreno. Noi del consorzio Piave abbiamo utilizzato un'area investita a prato stabile, il consorzio Brenta ha utilizzato delle aree sulle quali svolgeva dalla sperimentazione attraverso l'infiltrazione da una serie di canalizzazioni ricavate nelle aree. Il consorzio Ledra Tagliamento ha provato ad infiltrare acqua nel sottosuolo attraverso superfici incolte. Tutte e tre le sperimentazioni hanno portato come esito, hanno valutato una portata consistente che potrebbe essere immessa nel sottosuolo attraverso queste pratiche. Certo adesso il lavoro è capire come si può estendere questa pratica, farla diventare una prassi e quindi consentire di alimentare la falda. I volumi in gioco e i volumi che possono essere fatti a fluire alle falde sono senz'altro consistenti e quindi penso che tra le conclusioni del progetto ci possa essere quella di adottare una delle strade che noi abbiamo con le nostre prove studiato. La falda si alza e si abbassa, la falda è soggetta a variazioni che dipendono dall'andamento climatico, anche dall'anno in corso. Ci sono state situazioni nell'inverno scorso in cui la falda si è alzata parecchio, quindi sembra in contraddizione con quello che stiamo studiando. Nel complesso della mutazione, valutata su più anni, si nota che una concentrazione delle precipitazioni, una differenziazione dei tempi in cui avviene la precipitazione, un aumento delle temperature medie annue comporta una riduzione in termini quantitativi dell'acqua presente in falda. Quindi per mettere in atto adesso, per lavorare, prevedendo quello che può succedere, è necessario studiare quello che si può fare già da ora, perché noi lavoriamo in tempi molto lunghi, non è un problema che si risolve in termini di giorni, ci vogliono degli anni e per essere sicuri il risultato ci vuole sperimentazione.